Buonasera a tutti voi, sono contenta di vedervi così belli, vorrei essere una palla spinta dal vostro sostegno. Ore passate dentro la maglietta e a litigare con la tecnologia, a cercare di mantenermi a dieta, mentre la ricrescita non mi dà tregua. Ciao bambine, sono stupito di voi, una giornata dove si festeggia. E io oggi ho zappato, rastrellato, perché ho fatto l'otto. Io vi dirò, qual è stata la mia liberazione. Oggi sono stata, tutto il giorno a piedi nudi, nel mio giardinetto con i miei conigli. Sono Briao e dentro c'ho i posti, però le ciabatte ce l'ho sempre ai piedi. Che buon vino, la libertà, che tra un po' già spetterà e si brinderà. Ci abbiamo anche Silvia. Ciao a tutti, concludo questo incontro, il vostro sostegno è come l'albume d'uomo. Ti faccio la meringa e me la mangia il gatto e con questo vi saluto e auguri a tutti. Ha vinto Silvia perché ha usato più parole. Buonanotte. Bella, bella, bella. Ragazzi! Grazie a tutti.